Non è stato l'assessore agli eventi Stefano Marcheggiani a non volere il carnevale, ma le associazioni di categoria. Parola di Andrea Giuliani, che oggi è intervenuto anche sul tema delle manifestazioni annullate a Fano. Secondo il responsabile di Osi, confartigianato, è importante mantenere sì la tradizione, ma allo stesso tempo organizzare iniziative nuove che possano dare una risposta a tutte le tipologie di turisti. Non è bello vedere i partecipanti alla Fano dei Cesari con una bottiglia di birra in mano, ha detto, dobbiamo fare cose serie e un'idea potrebbe essere quella di far collaborare a pieno nell'evento la Colonia Iulia Fanestris, un'associazione di revocazione storica della vita pubblica, sociale, religiosa, civile e militare dell'antica Roma, ricreando scene di vita quotidiana e accampamenti. D'accordo con Giuliani, il presidente di alberghi consorziati Luciano Cecchini, che propone di investire su un brand per la città. Fano è città del carnevale e questo brand regge a livello nazionale? No, ancora in questo momento non regge, perché noi alle fiere ancora viene identificato il carnevale come Venezia e Via Reggio. Io punto molto far conoscere il carnevale a livello nazionale, anzi europeo, perché è uno dei carnevali più antichi d'Italia. Per portare avanti questo discorso bisogna fare dei grossi investimenti a livello pubblicitario, se no noi arriveremo sempre al carnevale dei 100 chilometri. Io ribadisco che se noi faremo una buona promozione sugli eventi, non solo della domenica, ma fare degli eventi settimanali, porteremo il carnevale ad alti livelli come negli anni 60, negli anni 70, quando venivano fatti a Fano i treni speciali, musei o corsi didattici sulla carta pesta. Portare un qualcosa di conoscenza, naturalmente, che il turista che viene a per stare più di un giorno a Fano. Il vice-sindaco Marchegiani ha ricordato invece il possibile ritorno di Moonlight Festival. Abbiamo avuto un contatto, come già ampiamente anticipato qualche mese fa, con gli organizzatori del Moonlight Festival, che sono interessati a tornare a Fano. La richiesta è per un festival che si dovrebbe articolare su tre giorni, di fronte più o meno al laboratorio di biologia marina, quindi vediamo adesso la location. Attendiamo un progetto, una proposta nel dettaglio, perché ovviamente io ho lasciato libertà di stabilire la scaletta artistica, sono esperti di quel settore musicale e c'è un forte interessamento. Noi siamo a braccia aperte e le accogliamo, perché è un'iniziativa che ha lasciato un buon ricordo, che trascina molti appassionati e quindi tre giorni in stagione turistica, che dovrebbe essere credo luglio, il mese che preferiscono loro, ma anche questo sarà definito, è un'ottima opportunità per la città e quindi si riempie un tassello. Grazie. 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 Grazie.